A Rocchetta Sant'Antonio si gioca una gara importante del campionato Under 15 Lega Pro stagione 2016-2017, girone di tra Foggia e Juve Sabbia e Testa Coda, la capolista Juve Sabbia di scena a Foggia contro l'ultima in classifica, Foggia in campo con Vitarelli, Pompa, De Laurenti, Serione, Giannotti, Lamanna, Curci, Bruno, Ardisia, Totaro e Strippoli a disposizione di Della Martora, Trantino, Tancredi, Imbrangaccio, Picciotti, Borgia, Diorio, Guerrieri, Itzi e Botticelli Juve Sabbia in campo con Esposito Boccia, Liccardo, Annibale, Zaccariello, Costanzo Pulcino, Selvaggio Masotta, Gaudino e Mariano Guadacino in panchina a disposizione di mister Alfonso Belmonte, Spina, De Blasio, Alzaniello, Maudillo, Grimaldi, Pasquale, Vitiello, Guastella e Cauteno Nel primo tempo è a sedio, Juve Sabbia, Nello Boccia, salta un avversario, entra in aria, traversone per Giovanni Caudino miracolosa la parata di Vitarelli, è soltanto la prima, ancora Juve Sabbia, palla a cercare, Paolo Masotta, salta un avversario la sua conclusione termina alta sopra la traversa, calcio di punizione, Mariano Guadacino sul pallone parte, la mette dove non può arrivarci Vitarelli e invece si distende e mette in calcio l'angolo Juve Sabbia ancora in avanti, il pallone per Domenico Costanzo, traversone secondo palo Masotta da solo mette palla al lato neanche il tempo di cominciare, retropassaggio si infila, velocissimo, Paolo Masotta batte, in uscita Vitarelli la Juve Sabbia passa in vantaggio, la mette dentro, proprio Paolo Masotta il lungo rinvio è di Matteo Esposito, la palla rimbalza sulla tre quarti, si lotta, palla che arriva sull'out di destra a Mariano Guadacino, apertura, il traversore al centro, Pascale fa 2-0, trova il secondo gol in stagione, Andrea Pascale la mette e firma il 2-0, ci prova il Foggia, la conclusione è la grandissima risposta di Matteo Esposito, finisce così la Juve Sabbia Under-15, approda i play-off con tre turni d'anticipo, ottimo il lavoro di mister Alfonso Belmonte il loro spazio, il loro mondo, ecco il segreto di una famiglia felice, Le Camerette, fattore di felicità familiare Le Camerette, arredamento specializzato per ragazzi ascafati, www.lecamerette.it Grandi giochi per piccoli giocatori, dove? Da Fantasie di Antonio Procida, dove assortimento e qualità non hanno uguali, bambini prima di scegliere venite da Fantasie, la casa dei balocchi più bella che ci sia, tutto quello che desiderate, ma proprio tutto e altro ancora. Fantasie e giocattoli lo trovate in via da Vernola 152 a Castellamare di Stabia Hai voglia di pizza, fritti e rosticini o di primi secondi e dolci gustosi, di un drink o di un cocktail? Questo è il posto che fa per te, l'incrocio sa prenderti per la gola la tradizione di un'antica ricetta, gli ingredienti naturali e tanto amore. Il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato, il buttaziello ondufato, chiedetelo, provatelo e poi ci direte Typical Italian Food, l'incrocio lo puoi trovare a Torre Annunziata in via Vittorio Veneto 360, per prenotazioni chiamalo 081862 2836 Flyline Sport, veste lo sport e il tempo libero, da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in via Europa, 51G a Castellammà di Stabia, Napoli. Every day is beautiful. Crediamo che la bellezza sia una cosa raggiungibile da tutti. Insegniamo che essere belli non è un sacrificio, non deve essere necessariamente dispendioso o qualcosa che appartiene agli altri. Essere belli è semplicemente sentirsi bene tutto il giorno, tutti i giorni della vita. Offriamo prodotti di bellezza delle grandi marche e consigli per ogni giorno della vita del cliente. Aiutiamo le persone a stare bene con se stesse e di conseguenza con gli altri. Ci rivolgiamo con rispetto e professionalità. Siamo sempre disponibili. Ti aspettiamo da Olshed. Vieni a trovarci a Pompei, nel centro commerciale La Cartiera. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Via Europa 82 a Castellammare di Stabia.